Buongiorno ragazzi miei belli, Javier Zanetti ha rilasciato una lunga intervista ed importante a Marsa ed io ve la voglio raccontare. Javier ha toccato diversi argomenti importanti in chiave Inter, a partire dal rinnovo di Inzaghi. Il prolungamento del contratto del tecnico significa stabilità. Conferma che Simone sta facendo un ottimo lavoro, ha spiegato così il vicepresidente Nerazzurro. Con grande personalità e serenità ha continuato ad aver fiducia in quello che faceva e questo gli è stato riconosciuto, dandogli quella continuità che si è guadagnato e che merita. Poi continua sull'obiettivo Champions, ritornare in finale? Sarà difficile ma la voglia di riprovarci non manca, sappiamo che nel calcio tutto è possibile ma dobbiamo andare passo dopo passo, prima di tutto dobbiamo passare il girone. che credo sia la cosa più importante. Nel frattempo però testa al campionato ed al presente. Siamo felici perché sono partiti giocatori importanti e che dobbiamo ringraziare per quello che hanno fatto difendendo la maglia dell'Inter. E sono arrivati però nuovi giocatori con tanta voglia di fare e di fare cose importanti, soprattutto per l'Inter. Abbiamo iniziato il campionato vincendo tutte e tre le partite, dimostrando che ancora oggi l'Inter è una squadra competitiva. Chi vincerà il campionato? Vedo una Serie A molto equilibrata, in cui tutte le squadre che hanno l'ambizione di vincere lo Scudetto si sono rafforzate molto bene. Ha poi proseguito. Competitività che non può fare a meno dei gol e della personalità di Lautaro. Sono andato a cercare Lautaro. Che oggi sia il capitano dell'Inter e che si senta identificato con l'istituzione mi fa molto piacere. Ha poi raccontato Javier. Lautaro rappresenta tutto quello che significa un club come l'Inter e migliora ogni anno. E poi gli fa una dedica. Spero che il tuo futuro ti regali cose ancora più importanti. Sono dell'idea che quando tu sei in un club grande come quello dell'Inter, è normale che tu abbia grandi giocatori. Ed è altrettanto normale che altri club importanti li vogliano ingaggiare. Ha aggiunto quest'ultima postilla in relazione a molti club importanti che hanno un interesse forte per il Toro. Poi ovviamente ci sono tanti fattori che spingono il giocatore a voler rimanere o ad andarsene. E proprio su chi ha voluto andarsene non poteva mancare un commento sulla faccenda Lukaku. Volevamo che Romelu rimanesse con noi, ma poi sono successe delle cose che non ci aspettavamo e ci hanno spinto ad uscire dalla trattativa. Lukaku ora è un giocatore di un altro club. Fa parte del nostro passato e noi adesso, come società, dobbiamo guardare al futuro. Poi ancora qualche battuta sulla Champions. Chi è il favorito oggi per la Champions? Ad oggi il City è una rosa molto completa. Sicuramente essendo il campione in carica ci riproverà, ma non escludo le squadre spagnole perché sono competizioni che loro conoscono molto bene e hanno comunque la tradizione, come Barcellona e Real Madrid, su tutti. Ma quello che ci interessa di più è che l'Inter si sia guadagnata rispetto e che rimanga competitiva. E spero che questo ci porti più in alto possibile. Ripetere una finale è sempre complicato, ma dobbiamo riprovarci. La Real è una squadra che dobbiamo rispettare molto, il calcio spagnolo è molto molto competitivo ed affrontare squadre spagnole è molto difficile. Conclude poi parlando del girone dei Nerazzurri. Penso che il nostro girone sia molto equilibrato e che l'Inter sappia affrontare queste sfide nel migliore dei modi. Ecco ragazzi, questa era l'intervista concessa da Javier Zanetti, l'eterno capitano dell'Inter, al Marsa. Spero sia stata di vostro gradimento, vi abbraccio tutti come se fossi lì e ricordatevi sempre che la vostra Lucri vi vuole bene e sempre, 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 forza Inter ragazzi!